Ciao a tutti! Ciao! Allora oggi siamo al wok di Oljadekomasko, restaurant di Beijing e abbiamo preso due pacchi, due magic box che costano 5 euro e 99 e li abbiamo presi. Cada uno e adesso vediamo se riusciamo stasera a mangiare sushi cinese e anche qualcosa di italiano. Dopo la consegna vi teniamo aggiornati. A dopo, ciao ciao! Ciao a tutti, siamo tornati a casa prendendo i due magic box e adesso li apriremo insieme a voi. Allora, nella prima andiamo a trovare delle verdure con il pollo, buone. Allora, poi sempre nel ritacco troviamo delle cose fritte. Mmm buone! Qua andiamo a trovare... Terzo pacco, uh spaghetti! Buoni! E siamo a tre pacchi. Quarto pacco. Andiamo a trovare sushi. Sushi! Voloso. Poi andiamo al secondo pacco. Prima scatoletta. Andiamo e c'è cose... peperoni. Cipolla, olive. Buonissimo ragazzi! Buono, buono. E siamo a cinque pacchi. Poi andiamo... Sesto pacco. Andiamo e... Altro sushi! Too good to go! Questo invece ci andiamo a trovare. Altra carne con la verdura. Uh, quello è buonissimo Dario, piace anche alla mamma. Il pollo in agrodolce. Vero amore che ti piace? Yes! Andiamo avanti. Oh, c'è qualcuno. Ciao, via! Riso alla cantonese. E vai! E l'ultimo del secondo pacco. Andiamo a trovare... Wow, gamberette! Quindi in totale quanti pacchi abbiamo, Dario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E abbiamo speso? 12 euro. Ci ceniamo! Ciao! Ciao, ciao!